Amici, rigira, rigira! Oggi direttamente alla San Vigilio, tre atleti dello sci alpino. Con noi abbiamo... Manuela Mölk, ciao a tutti! Manfred Mölk e Hannah Schnauf Come vi chiamate? Eh? Eh? Vabbè, eh? Scusa, ma sono sempre così? Sì, sì, sì. Anche peggio. Al Giro d'Italia! Eee! Ciao a tutti, San Vigilio di Marebbe! Vi saluta! Come vi saluto? Vuoi già andare via? No, è beata tra le donne, guardate voi. Eh, bravo. Stringiamo, stringiamo. Stringiamoci, stringiamoci. Allora, siete pronti a rispondere alle nostre domande sul ciclismo? Anche perché voi siete abituati alle montagne. Prontissimi, prontissimi. Prontissimi, salita in salita. La più facile è una salita in discesa o una discesa in salita? Eh, facciamo le domande. Pizzettone, pizzettone, pronti? Vai. Maglia rosa? Porta la maglia rosa. Maglia bianca? Uno, due, tre. La verde? Spagnolo. La maglia blu? Spagnolo. No, non ci sono io. Ivan Basso! Viva Basso! Viva Basso! Viva Basso! Viva Basso per oggi e vincerà anche il Giro d'Italia. Ragazzi, allora quest'anno ha partecipato un nuovo concorrente che si chiama Cosmas. Uno dei più giovani. Sì. Che si sta classificando sempre fra i primi tre. Volevamo sapere il vostro parere su questa decisione di comunque far partecipare un ragazzo così giovane al Giro d'Italia 2010, con delle tappe veramente molto difficili. No, penso che sia giusto, però non è Cosmas, sì? No. Come no? Non è Cosmas. Se ne parla dappertutto. Eh, il vincitore della maglia blu. No, 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 questo qua, no, no, questo lo sto pensando. No, perché ieri abbiamo parlato di uno giovane, ma non è Cosmas. Cosmas? Allora, come no? Senti, lascia stare tu perché... Cosmas. Ah, ok, sto sbagliando. Lui non è molto preparato. Chiediamo a loro due cosa pensano della forma fisica dei corridori. Vai. Io sono preparata ancora meno che sono tornata ieri notte dalla vacanza, quindi non so. Fisicamente, fisicamente, ti piacciono? Hanno una fibra che è bellissima, quindi... Una bellissima fibra. Eh, una fibra, hai visto i polpacci che c'hanno su, no? Perché hanno dei polpacci? Noi, altro. Altro, al sedere o cosa? Scusate, però qua discorsi di donne, non so se... Scusate, ha ragione. A questo punto non ci resta che fare un saluto sciando. Vai. Fateci vedere a gira e rigira, dai. O la musica. Sciando, vai. In dialetto, in dialetto. Ciao amici, rigira e rigira. Pronti? Via. Ciao. Ciao a tutti, dal Flande Mareo. Ciao. Ciao.